Vi porto con me da Eurospin alla ricerca dei doppioni economici dei profumi di lusso. Iniziamo dal reparto uomo e Iconic Warrior è il dupe del profumo Vetiveux di Guerlain. Da donna invece ho trovato Lady Sugar che è il doppione di Black Opium di Yves Saint Laurent. E ancora Secret Moon che è il dupe del profumo Alien che è uno di quelli che mi avete richiesto di più in assoluto. Concludiamo con il profumo da uomo Gold Legend che è il doppione di Terre d'Hermes.